A gusto delle donne, presidente dell'associazione Rigenera Vasto, da poco costituita ma che già vuole fare tanto per il nostro territorio. Siamo infatti alla Villa Comunale perché presto ci sarà un evento. Augusto, di cosa si tratta? Allora, l'evento si svolgerà sabato 22 e domenica 23 maggio, a partire dalle 8.30. presso la Villa Comunale di Vasto, nello specifico presso la pista di pattinaggio collocata all'interno. In queste due giornate saranno ovviamente chiamati a essere coinvolti tutti i cittadini, tutti quelli che vorranno partecipare, anche dalle famiglie, bambini, anche da altre associazioni che vorranno farne parte, per in qualche modo contribuire con la propria volontà di riqualificare questa realtà che nel passato è stata gestita, sicuramente in maniera più decorosa. Da questo punto di vista noi quello che andremo a fare, quello che abbiamo già fatto, abbiamo iniziato in questi giorni un pochino a spianare la strada al lavoro che andremo a svolgere la settimana prossima, rendendo un pochino uniforme tutte quelle piccole aree che erano un pochino dissestate, per in qualche modo agevolare ovviamente il semplice cittadino che non è ovviamente del mestiere, nell'avere più facilità nell'intervento. Ovviamente andremo a ritinteggiare tutta quanta la facciata da entrambi i lati, anche i fabbricati retrostanti dove un tempo ovviamente sussisteva un locale, se non ricordo male, un barretto e in più anche tutta verrà scartavetrata tutta quanta alla ringhiera e verrà ritinteggiata in maniera decorosa. Quindi è un'iniziativa proprio mano in pasta in cui si chiedono alle persone, si chiede alle persone di partecipare perché così magari imparano anche a rispettare meglio le cose. La finalità è proprio quella, quella di rendere sicuramente la realtà più decorosa ma sensibilizzare dal piccolo al grande cittadino nel rispettare questi luoghi che potrebbero essere luoghi di aggregazione e che ovviamente un potenziale come la Villa Comunale potrebbe dare solo coinvolgendo ovviamente tutti noi nel rispettare l'ambiente che ci circonda. Come faccio a partecipare io cittadino? Allora semplicemente, allora perché ha Facebook ovviamente, l'altissima percentuale di cittadini Facebook ovviamente è utilizzato e quindi dal canale Facebook, quindi dal social network contattarci via messaggio lasciando i propri contatti e ovviamente ogni persona verrà ricontattata anche per in qualche modo dare indicazioni sull'intervento e altrimenti in mancanza di Facebook c'è la mail dell'associazione che rigenera vasto, chioccio alla gmail.com e ovviamente mandando questa mail si verrà ricontattati in tempi brevi per poi pianificare il tutto. Ci sarà tanto da fare? Tanto, tanto, tanto. Abbiamo bisogno di tutti, più persone possibili. Aiutateci!